Verbum Crucis, la voce della croce, è riecheggiata in ogni chiesa della città e della provincia. Molti fedeli, nonostante la pioggia, hanno vissuto nella preghiera, nella riflessione, l'esperienza religiosa del tempo del disincanto, costruita sulla disperata violenza di una storia. Particolarmente suggestiva, i fedeli portavano una fiaccola accesa, la celebrazione nella basilica di Sant'Antonino e le strade intorno, fino alla chiesa madre, presieduta dal vescovo, preghiere, il canto e dopo il breve racconto ad ognuna delle quattordici stazioni, le riflessioni guidate. Siamo chiamati ad una nuova vita, ci saranno cieli nuovi e terra nuova, l'umanità rinasse sul Golgota, i momenti affidati alla riflessione. È possibile risorgere solo con Cristo, inutile tentare altre strade. Non perdete mai la speranza, la pace è più forte della guerra, l'amore è più forte dell'egoismo, la vita è più forte della morte. Alla voce del Papa, dal Colosseo e quella del Vescovo, hanno aggiunto la loro voce. È un gesto che mi aiuta a capire anche qual è la mia fede, nel senso ripercorrere quello che Cristo ha fatto nella vita, che non è un ricordo scolastico scritto sul libro, ma appunto è interessante se è un ricordo vivo. Per me è un semplice gesto per ricordarmi cosa è successo duemila anni fa e per ricordare chi ha fatto un grandissimo gesto di sacrificio per il bene di tutti. Fare la Via Crucis oggi è una scelta, nel senso che non è assolutamente scontato decidere di partecipare a un gesto religioso, secondo me, ed è per me un modo di prepararmi alla Pasqua, anche di vivere in qualche modo più spirituale questi giorni di vacanza, per me che sono un'insegnante. Le due piazze, la basilica e i palazzi del centro hanno aggiunto il linguaggio dell'arte alla Via Crucis, la scenografia per un momento importante per lo spirito. Il triduo che precede la Pasqua si concluderà alle 22 in cattedrale con la veglia pasquale che annuncia il ritorno di Dio, Gesù che è risorto da morte.